Mi chiamo Rita Mancuso, sono nata a Balata, in Sicilia. Sono studentessa, ho 17 anni. Sono figlia di Don Michele Mancuso. La sorella di Carmelo Mancuso. Traditi dagli uomini del nostro stesso clan. E sono qui per dirvi tutto quello che so su Don Salvorrimi. Ned oggi fa parte del servizio protezione collaboratore di giustizia. Chiede aiuto alla giustizia dello Stato, è così. Stanno tutto fuori. Sto a me ne ho detto che sono forti, giusto? Povera lusa, con tutti ce la fanno. Sono venuta qui per avere vendetta. Adesso chiedo giustizia. Ho capito che non è la stessa cosa.